E' stata una vittoria rigenerante, la terza in tre turni per il Pescara per una squadra che ha riconquistato il quarto posto seppur in coabitazione con l'Ancona, prossimo avversario del Pescara domani alle 18. Un successo, quello ottenuto con caparbietà sul campo del Limolese che ha restituito ottimismo all'ambiente nell'ultima giornata del girone di andata e soprattutto senza prendere gol per la seconda volta in due gare, particolare non trascurabile per una difesa che era sembrata il reparto più vulnerabile nel 3-4-3 di Auterie che ora sembrerebbe un po' più affidabile. Una rilascita anche nel segno dei giovani, Veroli innanzitutto decisivo nel ruolo di centrale di sinistra, interpretato con personalità e bravo anche in fase di proposizione dell'azione. E poi Giambo che domani contro l'Ancona tornerà a titolare e che con Pompetti sembra più integrato rispetto a Memushai. E' lo stesso Pompetti, giocatore di categoria superiore che aveva solo bisogno di trovare un suo ruolo di leader per far emergere tutte le sue potenzialità, senza contare Sorrentino entrato in punta di piedi tra i pali dopo l'infortunio di Gennaro e che invece ha dimostrato di tenere bene il ruolo di numero uno. Con l'Ancona cederà per un turno il posto a Iacobucci che merita una chance, discorso a parte per Ferrari, non solo per gli otto gol quasi tutti decisivi ma anche per lo spirito che interpreta nei migliori dei modi il nuovo corso di una squadra finalmente calata nella categoria. Gol anche rubati a conferma di una determinazione e una grinta della quale la squadra aveva e ha bisogno, a dispetto di nomi e blasone che lasciano il tempo che trovano contro avversari che lottano e soprattutto corrono. Ora con l'Ancona che sembra avere gli stessi biorittimi del Pescara con il quale condivide non solo i punti in classifica ma anche le tre vittorie consecutive e l'andamento in campionato c'è la possibilità di vedere se davvero il Pescara di Auteri è cambiato contro un'avversaria allestita bene e speculare in questo al Pescara dopo la promozione e il ruolo ben cucito di miglior matricola del torneo.